Eccomi a Roma, a casa di Enrico Montesano, anzi nel suo studio, da dove lui fa le dirette, i video con monologhi, dove legge dei testi che sono diventati molto popolari, perché fanno capire l'assurdità del periodo in cui stiamo vivendo. Bello vedere anche foto di capi pelle rossa indiani. Allora, tavolo un po' si muove in questo senso, no? No, te lo dico perché così tu ti regoli, perché in questo senso un po' si muove questo tavolo, perché in questo no, in questo senso no. Ma d'altra parte tutto si muove, no? E tu, vabbè, se tu te trovi bene continua pure. No, ma se mi avessero detto un giorno, vai a intervistare Enrico Montesano e dico certo, sono curiosissimo. Sai già riprende che sei infiutato una buona donna. No, vai certo, dico vai a intervistare Enrico Montesano e dico io sono curiosissimo perché lui era il mio idolo, ti spiego perché, perché devi sapere che io guardavo tutti i film musicarelli e tu hai iniziato nei musicarelli. Scusa, stavo leggendo perché la cosa che mi fa impazzire è che questo è un popolo, è difficilissimo da governare questo popolo, io penso. Quindi infatti ci hanno rinunciato, infatti non lo stanno governando per niente, ognuno fa quello che gli pare, loro fanno le loro cose, ordinano, ordinano ma non governano. Anche perché forse probabilmente, no scusa, non voglio deviare, divagare. Non so cosa tu abbia letto, però se hai deviato, dicevo che se un giorno mi dicevano hai l'occasione di interessare Montesano, io dico cavolo è il mio idolo perché io guardavo i musicarelli. Tu facevi tutto con l'Itoltonico, con la Caselli, con l'Albano. Eravamo agli inizi proprio, appena diplomato io volevo fare l'attore perché evidentemente anche se si salta una generazione come quella di mio papà, il richiamo c'era perché i miei nonni, il cugino di mio nonno, lo zio Achille, faceva l'attore comico nelle operette, nonno Enrico dirigeva l'orchestra, nonna Bianca figlia del barone Castagnetta, Giuseppe, io non so, però ho delle foto del bisnonno molto bello e elegante che però poi scelse la carriera di impresario e quindi per questo fu un po' diseredato e cacciato via dalla famiglia perché andava presso alle canzonettiste, ma io ti sto a parlare dell'Ottocento, infatti ho una foto del mio vecchio bisnonno Castagnetta, Giuseppe, che è truccato come erano gli attori nell'Ottocento, molto forte, no? E quindi io ho ripreso senza saperlo perché poi i miei nonni non è che ne parlassero molto, sai, la guerra mondiale è un cambiamento epocale, mentre prima loro facevano le tournée, io ho delle lettere che si sono scambiati, nonno e nonna, nonno andava col piroscafo ad Asmara, all'Asmara, a Mogadiscio, nell'Impero, a forse facevano le operette in Libia e poi nelle tournée in Italia, quindi un cambiamento epocale, l'operetta non va più, quindi nonno era anche un po' forse amareggiato, deluso, poesia ammalò, non è che parlassero molto di teatro, di spettacolo, sì, ogni tanto quando io ero piccolo a tavola loro avevano qualche riminiscenza, qualche ricordo, parlavano della vedova allegra, la principessa della ciarda, non so, il cavallino bianco, quindi le operette io, quindi ti dico, quindi è uscita fuori sta cosa, tanto che mio nonno mi disse prima ti diplomi e poi casomai se vuoi fare l'attore, nonno Enrico il musicista, ci sono, vedi, delle caricature là di nonno Enrico, questo qua è nonno Enrico, gli hanno fatto delle caricature, onorato, alcune cose sono degli anni, insomma, e quindi io poi ho cominciato e come fai, tu quando cominci proprio, perché nonno non è che conoscesse gente nel cinema, nonno era, faceva il mondo dell'operetta prima della guerra, quindi lui, tanto vedi che lui non ha neanche, sì, ha fatto qualche canzone, mi hanno portato gli spartiti, amici suoi dopo tanti anni, io ho di là qualche spartito di nonno, ha scritto due, tre canzoni, io dicevo ma perché non scrivi le canzoni? Eh no, lui forse era un'altra generazione, insomma, cominciai e trovai, non lo so quale via, non me lo ricordo neanche più, sì, questi film con Little Steltoni, facevamo, poi abbiamo fatto quelli lì con, io con Morandi non ci ho lavorato, però io ho lavorato con Caterina Caselli, io non protesto, io amo, eh, io non protesto, io amo, poi con Albano e Romina, che si sono conosciuti nel sole, noi eravamo un gruppo di ragazzi che stavano qui nel gruppo, adesso non mi ricordo neanche più la storia, io però so che poi, chi c'erano? Erano anche, mi pare che il produttore della Mondialtefi, era Carbone, era simpaticissimo, adesso facciamo un film, e ne abbiamo fatti parecchi, era per noi giovanissimi attori che cominciavamo, andava tutto bene, eh, certo, e vi divertivate anche, ma sì, io però c'ho un ricordo particolare, pensa, perché, è che era quello lì con, che c'era, Giannini, Marisa Sannia, Lola Falana, Stasera mi butto, era Stasera mi butto, Stasera mi butto, Lola Falana, Rocky Roberts, che era un mio idos, Stasera mi butto, era fortissimo, Frank e Ciccio, ma insomma, io facevo il Festival degli Sconosciuti ad Ariccia, con Teddy Reno e Rita Papone, certe volte andavamo a mangiare lì alla Forchetta dove poi abitavano sopra, Teddy Reno e Rita, Ferruccio e Rita abitavano lì, poi prendevo la mia vecchia Innocenti Spider di terza mano e me ne andavo al villaggio Coppola dove, oggi, ma all'epoca era un posto pieno da mare, villaggio Coppola, Coppola, e poi lì c'erano tutti questi ragazzi, c'erano vari giovincelli che volevano fare gli attori, insomma, e tu ci sei riuscito perché dopo hai fatto tanti film, hai lavorato con tutti praticamente, Verdone, Pozzetto, è stata una lunga gavetta, una lunga carriera, cioè cominciare da lì e proprio cominciare da zero, zero, uno, due, tre, quattro, cercando poi sempre di migliorare, di migliorarci, di migliorarci, migliorarmi, sì, poi capivo che bisognava per farsi conoscere fare la televisione, televisione, già all'epoca era importantissimo fare una cosa in televisione, capito, e però per fare la televisione devi pure far notare, l'occasione buona fu quella di proprio di andare in un teatrino cabaret, io mi preparavo però, ti devo dire, per la mia passione che era fare la commedia musicale, cantare, ballare, recitare, quindi io andavo, sapevo di non avendo fatto l'accademia studi, ho fatto studi tecnici, quindi sono geometra, diplomato geometra, io sapevo che avevo una carenza delle basi culturali, quelle che si fanno nel liceo, cioè il latino, il greco, la filosofia, però grazie al cielo io ho avuto un grandissimo professore di lettere, che mi ha instillato la curiosità per la letteratura che mi è rimasta, poi avendo deciso di fare l'attore ho cercato di studiare da solo, per conto mio, come per conto mio ho cominciato a studiare danza, recitazione, canto, ovviamente mi presentai a fare un provino in Rai e mi hanno bocciato, come attore, dice fai un attore vado a fare un provino, la mia maestra di recitazione privata, che io mi pagavo con i miei proventi delle serate, perché io facevo i feste di piazza, grande scuola, grande accademia, dove di volta in volta incontravo qualche vecchio comico della spettacolo, che mi diceva delle dritte, mi raccontava una barzelletta, mi dava un suggerimento, perché io iniziai come imitatore, il ragazzo dalle cento voci, chissà perché un impresario andava di moda, ti devi cambiare il nome, come ti chiami? Henry Monsano, ma a me non mi piaceva per niente, mi faceva schifo, perché Henry Monsano? Ma che manero, io dico ma io rispetto e riguardo a mio nonno, non lo conosce nessuno, però era un musicista, era una famiglia di teatranti, mio bisnonno Michele già dirigeva l'orchestra, no? E quindi lui fece la compagnia dei fratelli Montesano, ma nell'epoca remota, dico quindi ma come una forma di riguardo, dico io mi chiamo come mio nonno Enrico Montesano, vabbè non c'avrò il nome d'arte, speriamo da aver l'arte, il nome non ce l'ho, spero da aver l'arte, allora mi presentai, c'era una ringa secca, 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 lunga, lunga, mi hanno bocciato, mi hanno bocciato, allora io ho detto vabbè, mo che devo fare, andai una volta dico ma c'è sta un altro provino in Rai, per quello, per una trasmissione, quello l'impiegato, lei c'era un usciere romano, dice no ci sono stati i provini, ci sono stati proprio un mese fa, dico annaggia arrivo sempre fuori tempo, dice ma qua va qui vicino, dice c'è sta uno che fa una trasmissione per ragazzi, che cerca dei giovani che fa le serate, dico ma come dove? A sto portone, era tre portoni prima dell'ingresso di via Teulata, del centro di produzione, no? Che io andai là, dico io lì devo andare, mi piace, poi ci sono andato insomma, e andai in questo posto e c'era quel vecchio presentatore della TV per i ragazzi in bianco e nero, Capitan Zicavo che arrivava con l'elicottero, io mi presentai, lui mi disse che sai fa? Io gli ho fatto davanti alla scrivania in piedi un po' di imitazioni, facevo Ruggero Orlando, Fabrizi, Totò, Russell, da Porto, quelli dall'epoca, no? Allora dice vabbè domenica vieni con me e cominciai così a fare le feste di piazza, le serate, le serate, grande scuola perché lì era gratis e stavano in piedi, se non destavi un minimo di interesse, vattene che c'è sta a fare, se ne andava, non gliene fregava niente, però nel frattempo io studiavo danza, studiavo le tip tap con Tony Ventura, un po' di ballo moderno, l'ho fatto con Julia Hobart e lì ho conosciuto tutti i primi ballerini della Rai TV che avevano costituito un sindacato, si cominciavano Renato Greco, Maria Teresa dal Medico, Gianni Brizza, tantissimi ballerini bravissimi, Giorgetto, tutti questi ballerini che io vedevo nella televisione il sabato sera in bianco e nero, un giorno fanno una manifestazione perché stanno costituendo questo gruppo e dicevo, vuoi venire, presenti tu Enrico che fai l'imitazione, fai il presentatore della serata, io vado, dico sì certo perché erano diventati, io andavo nella loro scuola che prima stava a via Montezzebio, adesso lo YALS sta da un'altra parte, ho sempre avuto un amore per il ballo, per la musica, quindi per la recitazione, la dizione, tutte quelle cose che poi avevo anche imparato sulle tavole del palcoscenico perché quando una volta andai in accademia come uditore si parlava della voce portata, cosa che noi attori istintivi o attori diciamo che imparano sulle tavole del palcoscenico, in cinque minuti impariamo che cos'è la voce portata, ehi Giovanni mi sentite lassù? Ecco, ecco questa è la voce portata, quindi non c'è tempo da perdere, no? E tutte le tecniche, le cose, ma poi l'attore basta che osserva, basta che apre le orecchie, il più grande maestro è il pubblico, sta là, tu devi capire quando hai rotto le palle, scusa il termine, quando hai rotto le balle che stringere, quindi ho sempre amato il ritmo, lo sfogatore non mi piace, l'attore che non capisce quando è il momento e sfora dei venti minuti, quando la gente comincia a capire questo anche poi mi hanno insegnato i miei grandi maestri che sono stati i Garinei, Terzoli, vai, i Garinei, ma tutti i maestri miei che ho eletto come i miei maestri da Walter Chiari a Buster Keaton, se vuoi parlare di cinema e di teatro, un grande intrattenitore come Walter e quindi io avevo un quaderno dove mi scrivevo tutte le parole difficili, Walter aveva un eloquio ricco come per esempio Sandro Ciotti, mi piaceva ascoltare, io ti dico due che usavano bene la lingua italiana con un vocabolario ricco al di sopra delle normali cento parole, conoscevano trecento, cinquecento lemmi e quindi io ero affascinato da Walter, da Walter Chiari, Walter era un comico, mi diceva Terzoli, tu capisci ricco, che Terzoli tu lo sai che era l'anima anche di Gino Bramieri, faceva le cose, scrive, faceva Gino, faceva il comedatore rombato, no? E lui mi diceva prima di Walter Chiari il comico ancora faceva la passerella con lo smoking, per carità, alla maniera di Carletto D'Apporto, straordinario attore, sì, Don, che io facevo e lui venne, pensa Carlo D'Apporto, quando grazie ti dicevo io sono uno che divaga, è un dottor divago e dopo questa festa dei ballerini lì vennero Lando Fiorini, Leone Mancini, Lando mi disse volevo fare un cabaret, anzi proprio ieri, l'altro mi è arrivata la notizia che Nando, il fratello di Lando, che aveva un'impresa di costruzione di un'impresa edile e aiutò Lando proprio materialmente, noi l'abbiamo fatto quel vecchio cabaret di Via dei Salumi, proprio materialmente col carcinacci mettevamo via la roba e Nando è morto qualche giorno fa, che era, mi dispiace, poverino, e il fratello di Lando, quello più grande ogni tanto gli diceva la famose una pizzeria da meretta e invece noi mettevamo a posto i calcinacci, la pedana e cose, debuttammo la e c'era Solvede Assunta, Lando Fiorini, io credo nel 1966, bellissima esperienza, nella vecchia Trastevere, l'arco dei Dolomè, insomma piazza in Piscino, la piazza Anicia, dietro Santa Sicilia, insomma, bello insomma, e Lando cantava le sue canzoni romane, io facevo le imitazioni e allevò Leone Mancini, ci fece la regia, dice, allora, c'avete il copione? E lui, ma che è il copione? No, no, c'avevamo il copione, allora, che possiamo fare? E non sapevamo cosa fare, allora lui disse, che Barzellette sai? Allora Lando cominciò a raccontare Barzellette, Solvede disse, Barzellette, ma che Barzellette? E io raccontammo Barzellette, dice, allora facciamo delle scenette, e quella fu una chiave di volta, una grande trovata, perché facevano ridere, poi piano piano il pubblico c'è stava, si divertiva molto, era un pubblico semplice, romano, però piano piano cominciavamo a costruire questo, siamo cresciuti insieme con il nostro pubblico, Lando mi diceva, quanta gente c'è stasera? Io che mi affacciavo? Dico, che ne so, saranno una trentina, ammazza, andammo forti stasera, le trenta persone, e poi sempre di più, sempre di più, sempre di più, e là ci hanno notato delle persone, insomma, Lando aveva già fatto Rugantino, quindi il serenante con Garinè e Giovannini, però a me ci venivano a vedere perché dice, ah c'è sto ragazzo romano, bravo, che fa imitazioni, un animale da parcoscenico, bravo, io poi piano piano cominciavamo a fare dei monologhi, che era difficile costruire un monologo, imparare a costruire un monologo, quindi ci siamo fatti aiutare, mi ricordo venne Gianni Minà, a Gianni, taccia, taccia una mano, i giornalisti sportivi amici di Lando venivano e ci davano una mano, chi portava un'idea, chi ne portava un'altra, pensa che poi dopo, quando ritornai e c'era invece Emi Eco, che era la sorella di Umberto Eco, e adesso non so se c'è ancora, non mi ricordo, insomma, Emi, spero di sì, e una volta venne e dice questo l'ha scritto mio fratello, ammazza, Umberto Eco ci ha scritto una cosa, eravamo fuori, tagli, è bellissimo, erano dei jet de mots che lui aveva scritto, spiritosi, divertenti, però, sai, in un teatro, è un teatro che vede della parola, la gente non ha idea, dice, sai, devi scrivere, ecco, devi scrivere una cosa, uno scrive una cosa, scrivi una cosa così, ecco, se è scritta così può durare due minuti e mezzo, se è scritta così dura di meno, ma un monologo sono varie pagine che poi tu devi correggere, devi capire dove c'è la battuta, lo devi imparare a memoria, lo devi stringere, insomma, noi abbiamo imparato a fare i monologhi, le scenette, gli sketch alternati con una canzone, con una cosa ironica, lì ci videro e venendo Castellano e Pipolo a vedermi e mi dissero vuoi venire a fare un provino a Milano per fare la televisione? io ho detto, ammazza, e andammo, dopo un po' io andai, nel frattempo ero stato acquistato dalla Juventus dei teatri cabaret, o se vuoi, insomma, da un grande club, dal Paris Saint Germain, ecco, dei teatri cabaret e passai al bagaglino, al bagaglino c'erano Castellano e il pingitore, che si può dire che erano i re del monologo, perché avevamo visto in televisione i monologhi di Oreste e Lionello, beh, erano perfetti, no? Pieni di ironia, di trovate, lì ho conosciuto Gabriella Ferri, hai fatto parecchi programmi con Gabriella era una donna straordinaria io ho assistito proprio alle sue intuizioni artistiche in quello spettacolo che facemmo al bagaglino in bicolo della campanella, vecchio bicoletto del vecchio rione a Panico e lei lì si chiamava Tiette la Cica Tieni la Cicca e quindi per tenere la Cicca devi stare a bocca chiusa quindi come dire in romano Tiette la Cica acqua in bocca insomma e Gabriella aveva delle canzoni, provava e lì c'è dove sta Zazà e lì lei la rovescia come un guanto e la fa diventa dove sta Zazà di Gabriella Ferri perché prima Nino Taranto era una marcetta allegra no? ma da 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 poi maronna mia invece Gabriella qua e diventa una cosa ma da sta Zazà poi lei piaceva portare la tamburella poi si faceva i rossi cioè lì inventa noi stavamo tutti lì alle prove e lei lei lì inventò quei pomeriggi lì inventò dove sta Zazà perché Gabriella era geniale insomma ma perché se Gabriella era geniale era una bella donna aveva un enorme successo perché stava male? e secondo me proprio perché era molto intelligente e non troppo sensibile Gabriella si faceva problemi di tutto io non l'ho conosciuta proprio così a fondo beh ci hai fatto tanti programmi insieme sì io l'ammiravo la seguivo la comprendevo poi sai lui era sempre molto circondata da altri impegnata poi noi e noi dall'altra parte ognuno di noi doveva imparare il suo monologo perché sia dove sta Zazà che Mazzabubu che sono delle io credo delle piccole chicche della televisione di varietà perché anche se oggi le vai a rivedere Antonello Falqui gli autori cioè il copione c'era prima non si faceva non si fa dopo come si fa adesso si faceva prima e poi Antonello Falqui quindi si provava tutto ancora oggi ogni tanto quando rifanno per pezzo da americani sofforti che io ho i garzoni jeans insomma era pieno di trovate di idee quindi cioè non è che poi noi sì poi andavamo a cercare insieme si parlava poi Gabriella era stanca insomma poi capito Gabriella poi era un po' i discografici intorno era un po' sì si poteva parlare a quattro occhi ci ho parlato più a quattro occhi quando stavamo nel vecchio il cabaret di piccolo della campanella quando cominciavamo eppure Gabriella aveva fatto le romanine quelle cose lì però non aveva avuto ancora no? il boom del successo discografico che aveva avuto dopo però secondo me lei io quando gli ho fatto fare l'ultima cosa io in televisione prima che lei morisse sì che nessuno se lo ricorda qualcuno si appropria invece la verità è questa che è questo addio io facevo trash e feci venire Gabriella a cantare che era tanto dice eh so contento che mia madre grazie sono emozionata non posso bere un po' d'acqua sono stata al parrucchiere guarda mi sono comprata le scarpe nuove per venire qui però non c'è il vestito manco si vedono mi fanno male i piedi io ti ho levato le Gabriella che te prima non si vedono e facevamo trash questa trasmissione che secondo me era piena di idee e fu mutilata ignominiosamente per i giochi eh Rai7 era il momento di Rai7 insomma capito perché noi potevamo fare 6-7 puntate 8 puntate insomma era trash non si butta via niente una bellissima scenografia di Caetano Castelli con tutto un mucchio di roba buttata c'era il mucchio della plastica il mucchio delle cose era una specie di discarica dove io ogni tanto andavo e tiravo fuori una cosa che non si doveva buttare trovai la costituzione all'epoca nooo e pensa come stavamo avanti però c'è un problema purtroppo nel nostro paese quando sei troppo avanti passa la gente non la raccoglie certo e quando la riproponi e tu dici ma stai copiando gli altri che t'hanno copiato certo perché gli altri ti sono venuti a vedere che t'hanno copiato e utilizzano quella roba e la fanno tu che l'hai fatta prima allora guardate è roba mia la riproponi dice no tu stai copiando e no sono gli miei epigoni che sono venuti a teatro a impararmi a memoria da bravo a beati voi è permesso e hanno preso appunti o hanno registrato quindi per carità anche io mi sono ispirato oggi si dice si sono ispirati si sono ampiamente ispirati lì abbiamo tirato fuori la costituzione abbiamo tirato fuori che ti devo dire il vinile il vecchio disco so che tu sei tocco un argomento che te sta a cuore non dico il 45 giri il 33 il 45 il mangiadischi ma insomma per noi sono il mangiadischi sulla spiaggia oppure ce lo portavamo in macchina nella 500 c'eravamo quello che andava nella 500 che era tutto ammortizzato perché sennò era un film era grigio e bianco certo tu pensi che è avuto un incidente io sono capottato e con la macchina capottata la prima cosa che ho fatto ho messo sul disco e dico funziona ancora cioè con la testa in su e perché per noi vedi appunto la musica e poi questa cosa qua dove eravamo rimasti vabbè insomma ma poi alla fine alla fine hai fatto in tv il record ascolti assoluto che credo che ancora oggi sia imbattuto fantastico fantastico con Anna Occia fantastico dell'88 eravamo in vacanza con con Italo Terzoli che io ringrazio sempre assieme a Enrico Vaime erano due grandi autori le battute di Vaime mi facevano molto ridere perché il costruttore il costruttore il costruttore era perché poi gli autori si compendiano bene capisci certo e sono stati i miei maestri se vuoi perché fare una riunione di sceneggiatura con Benvenuti e De Bernardi che sono i grandi autori della commedia all'italiana assieme a Gescarpelli e a tanti altri che adesso è inutile nominare se no ci vorrebbe in quarto d'ora per carità Sonego che era lo sceneggiatore di Sordi una volta andai a trovare Sonego stava leggendo un libro sul cervello sulla mente perché questi sceneggiatori leggevano studiavano capito per poi quando scrivevano una storia avevano come dico sempre io il sacco bisogna riempirlo e poi davanti al pubblico lo svuoti ma con Sordi non ci hai mai lavorato no con Albertone con Alberto no con il grande Alberto Sordi no vedi sta là dove ah e come mai c'hai Alberto qui e perché e c'è il Marchese del Grillo appresso che io ho fatto a teatro ah è vero e perché Alberto Sordi ha abitato un portone prima di me nel mio quartiere dove sono nato e cresciuto a Garbatella via Vettor Fausto ah al 34 ma lo conoscevi no perché la famiglia Sordi ha abitato al 34 di via Vettor Fausto dove abbiamo messo una targa l'associazione della Garbatella fino al 1941 io sono nato qualche anno dopo ma professionalmente dopo l'hai conosciuto sì e lui è venuto a parte che l'ho conosciuto in varie occasioni c'è anche una bella foto dove lui sta insieme a tutti i suoi eredi è una foto dove c'è sta Nicchetti Troisi Verdone io non mi voglio scordare nessuno so se c'è pure Nuti e c'è Alberto in mezzo perché ci trovammo in una cosa di cinema poi Alberto viene a fare l'ospite a Fantastico diceva ma quando vado a scena io ah oh ma a che ore sono perché erano le 11 dice io a quest'ora vado a dormire perché io ho i cigli orari cinematografici io ho sonno mi disse e facemmo uno sketch dove lui faceva Mario Bio pronto non gli parlo non gli parlo io e io facevo mi pare il vecchietto non mi ricordo abbiamo fatto uno sketch perché vennero ospiti Manfredi Tognazzi sordi beh insomma ma scusa ma tu dei pesi massimi tu fai un record d'ascolto assoluto in questo fantastico ma poi perché non continui a fare televisione eh ho fatto un errore dovevo farlo l'anno dopo sì e perché non l'hai fatto? non lo so perché non ho perché io all'epoca ma no non devi bisogna cambiare non bisogna fare le stesse cose non puoi diventare un personaggio televisivo volevo fare il cinema il teatro hai fatto i film ho fatto un errore a non farlo lo riconosco ma sai nella vita si fanno degli errori hai fatto tanti film perché? quanti film hai fatto? non me lo ricordo sono una sessantina tra belli e brutti quali sono quelli più belli? ma io li ho fatti tutti con grande passione e grande professionalità per cercare di dare il meglio ma alcuni sono stati sfortunati alcuni più fortunati io ricordo con piacere a ragosta a colazione ricordo con piacere e con rammarico quello che doveva essere il mio film da protagonista assoluto sacrificato l'idea del movie movie che diceva Aurelio De Laurentiis che all'epoca andavano di moda i movie movie e io faccio l'episodio io sto così col papa il vetturino del papa quello ebbe un grande successo quell'episodio mio Adriano faceva invece mi pare un parroco faceva un prete era un episodio io e un episodio Adriano Celentano Celentano detto amichevolmente Adriano perché Adriano è un personaggio simpaticissimo è forte è forte bravo bravo c'hai i tempi Adriano io faccio attore ma lui come cantante era affascinato dal fatto che un attore avesse i tempi giusti e dico sì perché un attore comico deve avere i tempi giusti deve sapere quando è il momento di affondare quando è il momento di aspettare se no che è una musica se ci pensi è un ritmo certo e quindi quello ebbe molto successo sì quel film là e poi? febbre di cavallo che si chiamava qualamano febbre di cavallo poi certo c'è io ricordo l'episodio di qualamano l'episodio con Vanessa Redgrave io e la regina un'altra chicca aragosta a colazione febbre da cavallo è chiaro il primo quello vero perché l'altro no faceva parte di un trittico come si dice abbiamo un trittico di primi è un trist di primi come diceva Gigi faceva i gag faceva abbiamo un trittico di primi l'imitazione del cameriere Gigi Proietti ovviamente e no perché c'è un altro Gigi che sta nel nostro cuore è Gigi Magni non so chi è è Gigi Magni è l'autore del del nome del Papa Re di tutta quella trilogia che bei film su Roma antica nel nome nell'anno del Signore ecco erano film di protesta quelli erano film socialmente di protesta a me piacevano io il sessantottino li amavo Gigi Magni credo che quello pensasse nel raccontare la storia nell'anno del Signore dei Carbonari faceva dei riferimenti alla realtà di oggi insomma o di ieri perché quello però se tu ci pensi ancora sono film che vedi sono perfetti quindi quello lì ti dicevo perché febbre da cavallo con Gigi Proietti e Caterine Spack e Francesco De Rosa che dobbiamo ricordarlo non lo ricorda mai nessuno era il terzo e poi una serie di caratteristi straordinari ma bravi dall'attore che faceva Manzotin a Adolfo Cieli di Mario Caroteno di una bravura incredibile e poi quali altri film sono importanti secondo te? poi ho fatto anche dei film belli importanti come con Lina Berti Müller Veronica Lario film che si vede poco perché per i motivi che voi potrete immaginare perché c'era Veronica Lario eh sì che poi è diventata la moglie di Berlusconi e certo che poi è diventata la signora Berlusconi quindi è un film che difficilmente si vede tu credi che Berlusconi abbia comprato i diritti? ma non lo so con Lina Berti Müller come si chiamava? Sotto sotto strapazzato da Anomala Passione è un titolo Berti Mülleria prego si vedeva in desabiliè lei ma no allora perché? pochino pochino niente è una storia omosessuale cioè lui scopre che la moglie lo tradisce con un'altra donna e quella era molto moderna anche quella come storia che Lina esplorò no? i costumi, scene e costumi di Enrico Job quindi è bello poi aspetta io ho fatto un bellissimo film curioso anche quello un po' avanti con Sergio Nasca il paramedico e c'era anche Edwidge Fennec pure là e poi c'è Il ladrone che non ho nominato prima che è tratto dal romanzo di Pasquale Festa Campanile Il ladrone e la storia del buon ladrone dove ci fu una lunga discussione perché noi avevamo un consigliere del Vaticano della chiesa stai parlando dei due ladroni accanto a Gesù c'era il buono e quello cattivo certo il buon ladrone e il ladrone cattivo questa è la storia del buon ladrone che prima quando Gesù gli disse domani sarai con me nel regno dei cieli il buon ladrone gli dice grazie signore va avanti tu allora su questa battuta finale si fu una grandessima riunione e non era una cosa che all'epoca poteva passare però mi pare che poi passò questa quindi tu abbiamo visto cioè lui scambia Gesù per un grande mago più bravo di lui e dice ammazza che trucchi che fa questo io riesco a trasformare l'acqua in vino ma passo un'ampolletta un quartino questo odri odri di acqua trasformato in vino ma come fa? è affascinato da queste cose che fa Gesù finché poi non lo incoccia nella sera nell'orto del Gezzemani e rimane impressionato perché Gesù suda sangue e quindi lui si disorienta il ladrone un po' il buon ladrone si disorienta e poi per una serie di vicissitudini ma finì con Gesù sulla croce una curiosità ma Gesù allora era osteggiato se tornassi oggi sarebbe osteggiato di nuovo però credo che ne abbiamo un grandissimo bisogno si infatti sta la vedi sta la ecco questa è una cosa incredibile se tu la guardi attentamente guardi gli occhi è una cosa non è mica tanto normale sto ritratto la profondità di questo sguardo è un'immagine stampata su un foglio di carta però io non ho mai visto un'espressione così di questo non lo so se era così e io trovo però affascinante insomma certo può averlo dipinto Caravaggio Michelangelo tu hai successo nel cabaret hai successo nel cinema hai successo in televisione fai teatro e fai dei boom incredibili sto sulle palle un po' tu no no perché hai rovinato tutto facendo il complottista io complottista ma che ti sei ammattito a red io non io non me so io non so sempre quello di prima cioè dico le cose che dicevo prima cioè se prima c'era la balena bianca facevamo le battute contro Andreotti contro il povero Moro che io feci un'imitazione sua in quella bella in quella trasmissione che è un grande successo che si chiama quantunque io a colori per la rete 2 dove c'erano dei bravi dirigenti e volevamo fare una comicità nuova moderna piena di gags un po' all'americana all'inglese questo dirigente mi fece vedere le cassette dei Monty Python Dave Allen Marty Feldman Mel Brooks tutti tutti e poi abbiamo fatto lei alla nostra trasmissione portandola per il gusto nostro mediterraneo e quindi io facevamo la satira ci hanno ci hanno massacrato negli anni 70 per alzare il tiro della satira per essere più impegnati non si dovevano fare i film di cassetta e poi siamo precipitati nei panettoni voglio dire per carità con tutto il rispetto però io non ho fatti per esempio io ho evitato i pompieri scuola dei lati quella roba lì perché mi avevano talmente io ho cercato di fare ha capito film più le cose più impegnate non avevano successo come i film popolari certo e quindi però noi abbiamo percepito dal 1968 69 70 il movimento del 77 le pantere nere bisognava fare la critica al sistema al potere bisognava essere coraggiosi bisognava stare con il popolo bisognava educare le masse e beh io sto a continuare a fare quello non sono un complottista sto a fare quello che facevo negli anni 70 80 facevamo la satira al potere e perché ti danno del complottista o ci danno del complottista ci danno dei complottisti perché è un'etichetta che fa comodo giornalisticamente ed è una esemplificazione come per esempio no vax no io sono pro vax io sono pro vax perché a mio nipote se deve fare l'antitifica l'antidifterica l'antitubercolosa l'antivaiolosa la deve fare e voglio che la faccia io ce l'ho eccola qua non so se si vede ancora il segno una volta si vedeva questo segno il vaiolo quindi io ho fatto cinque vaccini sono no cavia più che no vax no cavia perché se questo è sperimentale io non voglio fare un esperimento poi essendo cristiano cattolico io ho un forte problema di obiezione di coscienza perché ci sono dentro delle sostanze ottenute da feti abortiti quindi fate come vi pare cioè io rispetto feti abortiti vivi sezionati e quindi se io sono credo devo dannare la mia anima ditemi pure che sono quello che volete ma io sono cioè continuo a fare la satira al potere costituito come ci hanno insegnato negli anni sessanta dal sessantotto in poi e quello si faceva ma perché c'era ma perché c'era la balena bianca la dici se poteva fare ma che c'è allora non si può fare più e no quindi no ma mi piace una cosa e a chi tocca se ingrugna come diceva Rugantino ma mi piace no ma mi piace una cosa perché tu questo è il set dove tu fai le tue sì io faccio le mie letture esatto però la cosa che mi piace è che tu davanti hai gli occhi di Cristo quindi tu davanti come per dire tu devi rispondere solo a lui non devi rispondere a nessun altro il fatto di aver davanti alla mia coscienza come mi hanno educato i miei padri somaschi perché io sono stato sette anni e pensa che il mio confessore era un gesuita come Papa Bergoglio e quindi io l'ho stimato e l'ho apprezzato ero un uomo straordinario e veniva incontro ai giovani tu dovevi dire che modernità nel 1963 64 65 parlavano questi nostri padri confessori o io non sono bigotto eh certo cioè non è che vado tutti i giorni però cioè io credo che la religiosità poi sia una cosa che ognuno di noi ha dentro di sé non c'è bisogno di andare nel tempio per pregare puoi pregare pure in qualunque parte vedi come fanno anche i musulmani loro pregano anche in un angolo si rivolgono verso la Mecca e in questo io trovo che loro sono molto rispettosi e noi dovremmo essere più rispettosi anche noi certo però tu tu praticamente concepisci quello che stai facendo un po' come una missione io si ritengo molto disdicevole per la mia coscienza mentire non riesco a dire una cosa che non ritengo giusta e corretta così mi hanno insegnato la mia famiglia i miei educatori per quindici anni che c'è la formazione no? e quindi anche se sei critico verso certe cose no? io ho certe decisioni poi sono sono un cristiano ormai un cristiano un po' sui generis se vuoi però certi fondamenti ci sono non riesco non riesco ad accettare questo pensiero unico dominante il questo politicamente corretto io poi dai un pochetto sono sempre stato un po' no? un po' un po' anarcho libertario allora io ho dietro una foto con chi sei in quella foto lì dietro? questo qui è Pietro Nenni io sono gemelli quindi vedi che c'è una componente spirituale cristiana ma c'è anche una componente socialista si certo socialista ecco Pietro Nenni che vuole stare con il popolo esatto ma allora Pietro Nenni e questa è la prima tessera 1976 del PSI Pietro Nenni è stato uno di quelli che hanno fatto la costituzione credo di sì che sia uno dei padri qui dietro ce n'è un'altra ma insomma adesso ho covezzo quindi uno di quelli che ha fatto la costituzione oggi cosa direbbe Pietro Nenni? tu che l'hai conosciuto non lo so è difficile perché lui era una bella mente complessa ma probabilmente lui come tutti gli altri direbbero abbiamo studiato e lavorato tanto poi sai che anche Aldo Moro è stato uno che ha lavorato tanto sulla costituzione italiana e dice vi abbiamo dato uno strumento importante e allora perché abbiamo faticato tanto per arrivare a questo? se adesso la state aggirando non credo che condividerebbero questo insomma basterebbe rispettarla metterla in pratica non è una cosa fatta male sì ci possono essere delle cose che loro che venivano da 5, 4, 5 anni di guerra da 20 anni di dittature ma soprattutto insomma l'occupazione tedesca i nazisti insomma dai i nazisti fascisti ma insomma perché abbiamo lottato ci siamo sacrificati e abbiamo lottato per poi produrre questo queste norme equilibrate che possono sì qualcuna può sentire il passaggio del tempo si potrebbe discutere tutti insieme come al solito perché non è che la costituzione c'erano tutti eh non è che erano tutti rappresentati i partiti democratici ovviamente certo in quel momento storico bisogna pure contestualizzare le cose quando accadono perché poi vent'anni dopo a parlare è facile cinquant'anni dopo in quel momento io non riesco a capire l'ho detto nella mia ultima lettura ho detto guardate che adesso arrivano quelli che sfondano le porte aperte arrivano i scopritori dell'acqua calda ne dico un'altra del luogo comune i partigiani dell'ultima ora capito? noi sono due anni che diciamo queste cose ma cosa diceva Nenni di quelli del vagone? come diceva? ah no perché Nenni quando andai a trovarlo che feci l'imitazione quantunque io feci l'imitazione di Moro Berlinguer che ancora ogni tanto ridanno che mi veniva bene perché io pure lui aveva la faccia lunga e scavata il nostro amico Marco Pannella è un nostro onorevole no fatemi finire diceva Berlinguer è un nostro compagno vabbè e poi feci Nenni e Moro che purtroppo dopo quello che è successo non credo che esista più quella cosa l'imitazione di Moro e Andreotti ogni tanto replicano perché c'è il braccio destro evangelisti che si muove indipendentemente perché noi abbiamo pensato che possiamo progredire ti prego Franco stai buono fermo era il braccio destro che lo aiutava ma io ce l'avevo scritto evangelisti insomma gli evangelisti si arrabbiò un pochetto delle fonore direttore insomma e Nenni invece mi dice vuoi che ti faccio qualcosa così mi imiti meglio perché io mi dovessi mettere l'ovatta perché lui era un po' più col basco gli occhiali no quando lui nei suoi comizi diceva noi diciamo le cose poi arriva la malfa arriva con l'ultimo vagone la malfa del partito repubblicano evidentemente erano le cose che i partiti di allora sai a proposito di politica ma scusa tutti i candidi e li ho sbagliato no 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 indipendente sei sbagliato o no no per la gente è sbagliato un'altra cosa c'è tutti i candidi vieni eletto al Parlamento Europeo e te ne vai giusto in tempo per non prendere neanche la pensione ma sei un coglione sì sì lo so sono un fesso ma sono contento di essere fesso ma perché te ne sei dato perché come dico in un mio monologo è permesso che è del 2007 io nel 2007 faccio uno spettacolo al Teatro Sistina che sta due mesi campione d'incasso e poi gira per l'Italia perché la gente va poco al teatro dove parlavo degli anglicismi del pensiero del dominio del politicamente corretto e poi dove dicevo che a noi fessi ci dovrebbero fare un monumento perché siamo noi che mandiamo avanti l'Italia noi fessi dice quello è il fesso dice sì sono fesso pago le tasse pago il biglietto vado a lavorare io sono andato via perché con un attacco mediatico è stata una specie di coltellata mediatica dietro la schiena che loro sono specializzati in questo forse io dovevo solo portare tanti voti e andarmene dopo qualche mese invece io volevo svolgere nei limiti il mio compito poi ho capito che è pressoché impossibile il deputato eletto deputato dal popolo a rappresentarlo perché questo è onorevole chiamatemi deputato sono deputato dai 130.000 elettori italiani che mi hanno votato a rappresentarli in questa commissione cultura, sport e genesse tanto che Boniberti Giampiero che stava con forza Italia forza Europa mi diceva Enrico ma qua quando cavolo si parla di sport parlate sempre di questa cazzo di televisione perché la televisione dominava capito gli interessi allora quello era io quando ho capito che non contavano nulla il popolo che non riusciva a rappresentarlo degnamente me ne sono andato hanno detto che ero avido l'attore che stava vedete quella sedia vuota mi fecero una vignetta su un supplemento del Corriere della Sera che non arrivava a Bruxelles quindi fu portata da Roma e messa davanti sul tavolo del capogruppo era tutto stato preparato architettato io sono caduto nel tranello perché qualcuno ha detto no non ti dimettere gli dai soddisfazione io come dice Montanelli la schiena dritta ha detto io me ne vado domani andate a cagare voi il partito l'Europa e mi fai affanculo alla romana proprio ha capito tu non mi devi a di petto cerco di fare qualcosa di buono per il mio paese in due anni ho parlato un minuto deputato dal popolo italiano un minuto partito del socialismo europeo la maggioranza del parlamento c'aveva in quel momento poi c'erano i centristi i popolari ma tu sai che dietro di me c'è Daniel Daniel Combendi quello del 68 francese si io dico non vedi a Daniel te vedevamo sui giornali che eri incasinato mi strellava nell'orecchio piano piano erano la gauche perché perché dietro di noi a fianco a noi era divertente dal punto di vista folcloristico beh si tutto poi vedi li vedi al di fuori del loro ruolo no? i vari deputati quello che fanno insomma era divertente però era anche molto noioso perché perché non riesci non riesci a seguire io credo che i deputati tanto il parlamento europeo mi pare che non leggifera mi pare non vorrei di una fregnaccia perché non mi ricordo più non me ne frega niente ma parliamo di una vita fa di un'altra vita io adesso sono un'altra persona le mie cellule sono completamente dimessi chi sei oggi? da quelle del 94 e chi sei? no tazzi nel 96 mi sono dimesso 97 no ti volevo dire quindi io credo di avere fatto una cosa che il mio orgoglio la mia coscienza la mia tigna romanesca mi imponeva allora ve lascio mi fa schifo questo po' ve lascio tenetevelo non ho nulla a che fare con questa robaccia me ne vado ma lei onorevole ci pensi bene mi diceva il segretario del parlamento ci pensi bene che gli mancano sei mesi un giorno e prende il vitalizio ridotto per carità però insomma non lo so adesso quanto avrebbe montato non mi interessa il danaro noi attori non dobbiamo parlare del danaro come diceva Casma noi siamo alle intonazioni alle pause intorno a noi una fantasmagoria lui diceva dei biglietti colorati che quindi di soldi e noi invece siamo portati all'intonazione quindi ho detto ah si allora arrivederci e grazie loro tutti contenti se sono presi il posto mio e io non ho più ho versato due anni di contributi eh e abbiamo versato ogni mese una parte che bisognava dare al partito democratico della sinistra quindi giudizioso ma questo lo trovo giusto si dava varie migliaia di euro che direttamente venivano trattenuti poi c'erano le le si pagavano i contributi ma io non ho non ho aderito alla pensione anche perché mi mancano sei mesi un giorno né la voglio perché io ho la mia di attore che mi so pagato con i miei contributi oh sarò fesso ma sto bene così io dormo bene tranquillo non gravo sulle tasche degli italiani eh chiedo scusa ma eh vediamo ecco e non gravo sulle tasche degli italiani non mi interessa per niente io andavo e lì c'è un meccanismo molto stupido dal Parlamento Europeo sai contano solo le presenze nell'aula grande quando vai a fare la presenza in commissione non ti segnano presenza e questo è una grande stronzata perché io mi alzavo alle cinque alle nove ero in aula a Bruxelles alla commissione cultura e sport e gioventù ma non mi dava presenza mentre invece la tecnica è se ci sono le riunioni lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì cinque giorni la tecnica era arrivare il mercoledì sera firmare stare giovedì firmare venerdì mattina e andare via hai tre presenze sei stato un giorno e mezzo questo va bene andare in commissione non fa presenza se io avevo da girare un film non potevo andare all'assemblea alla riunione plenaria non potevo essere in plenaria presente potevo chiedere al produttore un giorno ma ho tanta persone che si fermano tanto che parlai con un vecchio compagno che mi disse Enrico loro lo sanno che tu facevi l'attore gli hai portato tutti quei voti proprio perché facevi l'attore hai dato la tua immagine l'hai regalata adesso stai qua vieni quando puoi eh ma mi hanno fatto st'attacco io li mando tutti a cagare e me ne vado no sei fesso e questo è spiegato ma tu mi stai portando indietro come in una riunione psicoanalitica a una vita fa che io allora questa vita perché c'hai quella quella maschera lassù ah perché questo è gay folks cioè è quello lì che cercò di rovesciare il monarca dell'inglese no è V per vendetta diciamo poi hanno fatto quel film e che è diventato poi c'è una brutta fine sai gay folks credo che fu squartato le sue membra disperse bruciate perché lui voleva far esplodere il palazzo del re non so non mi ricordo ho letto la storia di gay folks invece lassù hai tutti i capi indiani ah si perché? sono i miei preferiti perché? perché sono le vittime di un grande genocidio di cui poi nessuno parla è un popolo forse che è un popolo forse che aveva più diritto di stare in quelle terre ma tutti gli aborigini è stato imbrogliato in maniera dai dal popolo dai bianchi ma tutti gli aborigini sono stati sfrattati dalla loro terra gli abbigliati gli hanno fatto delle cattiverie gli davano le coperte infettate di colera gli indiani col freddo se le mettevano addosso e sono morti tutti insomma ci sono delle storie bellissime sui nativi agghiaccianti quindi la cattiveria dell'essere umano è bene tenerla presente senti trovo strane tutte quelle chiavi cos'è quella storia? sono le chiavi di casa che io cerco di mettere in ordine perché ci sono anche i miei figli questa è una famiglia abbastanza grande ho capito ma ce ne saranno sessanta cinquanta e perché sono varie cose perché poi non servono a niente però quando ti serve una chiave tieni qui e forse la trovi hai capito? ah ho capito e padre Pio cosa c'entra? padre Pio che vedo padre Pio padre Pio perché un uomo straordinario che ha fatto quell'ospedale che fino a ieri non chiedeva il green pass insomma adesso non lo so se non chiede il green pass che io adesso però lui penso che non sarebbe molto contento insomma lo bisogna far venire accogliere tutti e perché Fausto Coppi? io sono sempre stato un tifoso di Fausto vado in bicicletta quando posso anche se mi piaceva tanto Bartali però Fausto è mitico guarda poi comunque guarda qua ci sta pure il Giorgio Chinaglia così hai visto tutto Re Cecconi i vecchi simboli questo è il primo stemma della Lazio questo è quello del 1914 e lassù vedo che sei un orgoglio italiano eh sì quello è un premio forse che mi hanno dato un orgoglio italiano perché io dico sempre non premi ma operate bene fatemi lavorà non mi date i premi ma non lavori adesso io mi sono ritirato in un aristocratico isolamento perché tanto il teatro mi dà capienza il che significa non poter fare teatro dai già se non sei sovvenzionato dallo Stato ma sei una compagnia privata come noi eravamo e vai in un teatro privato se sei bravo arrivi paro allora la gente deve arrivare due ore prima firmare un foglio di presenza nel locale poi far vedere il suo grand pass poi fare il biglietto poi entrare poi entrano altri due al botteghino cioè credo così mi ha detto un mio amico direttore artistico del teatro dove sono stato ultimamente e quindi se hai mille posti ne puoi entrare 500 distanziati e durante lo spettacolo con la mascherina quindi io sto due ore con la mascherina se devo ridere con la mascherina io non te vedo in faccia io voglio vedere la gente che ride perché a me chi ride mi dà la carica certo poi quando il biglietto quanto possiamo farlo pagare a meno che non c'è il ministero che ti dà il fondo unico dello spettacolo che ti dà 400 500 700 mila euro l'anno allora tu fai il borderò anche se ci sono tre persone te ne fotti noi no a noi intanto ci servono per calore umano perché a me delle citate portrune non me ne frega niente e poi per fare un minimo d'incasso perché poi tu devi pagare le tasse la CIA e devi dare una percentuale al teatro quello che te rimane ce devi pagare la compagnia quello che te rimane niente zero allora posso lavorare per zero cioè sì mi piace fare teatro allora vado per strada come l'altra sera sono andato al ristorante mi hanno fermato ho fatto un monologo di cinque minuti si sono divertiti tutti gratis io mi sono divertito loro si sono divertiti ma secondo te perché hanno colpito maggiormente la cultura quindi i teatri i musei e i concerti di musica e dai ti ho fatto una domanda ma no, ma è scontata la risposta no, ma me la devi dare ma dai chi ci ascolta adesso perché poi questi sono svegli questi che seguono la rete, le web di pool non so mica quelli che guardano i canali lo sanno che noi possiamo gettare un germe di dubbio di curiosità di dare una piccola notizia di vera informazione perché un altro gioco lessicale della astuta propaganda è quello di usare termini in maniera inversa no quindi tu col tuo canale io con le mie letture dentro la notizia Mazzucco dimmi toscano io li dico tutti perché poi li seguo li vedo bio blu bio blu bio blu sono fortissimi con la televisione radio 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 durante che ne so dimmi non voglio dimenticare nessuno blondet fanno informazione loro sono l'informazione non come hanno detto ieri a rete 4 non so chi che fanno contro informazione come ha detto la giornalista del tg1 con bianca bianchina o come dice concita capito voi loro fanno loro delle reti nazionali i media serbi come dice Sonia Savioli la dottoressa Sonia Savioli c'è quel libro l'ho letto loro fanno contro informazione voi fate informazione noi facciamo informazione io io leggo dei libri e quindi spero di informare di lasciare qualche dubbio di inoculare qualche dubbio sono uno spacciatore di libri come dice quelli di Elin Selay no Sonbancarini allora questo può dar fastidio soprattutto se non è finanziato ecco perché si tende a finanziare tutte le compagnie perché se tu vai là quanto mi date col cappello io dissi sono contro al finanziamento pubblico poi da libertario no perché mi fate pagare la tassa sulle attività produttive che è una stronzata ciclopica ma come invece di darmi un premio mi tassate perché ho assunto 30 persone in base al numero delle persone che assumi vieni tassato più ne assumi più paghi ma è una cazzata gigantesca capito io infatti adesso se mevo un teatro faccio un monologo non autorizzato un monologo prima facevo il conte d'acchia ci avevo 40 persone abbiamo fatto lavorare 40 persone per due stagioni allora non voglio soldi non voglio soldi pubblici alleggeriteci gli oneri sociali gli oneri fiscali le tasse non ci fate pagare a noi compagnia l'autostrada come a un ricco arabo russo americano perché io mi muovo non per vacanza ma perché sto andando a Genova al teatro Politeama perché voglio recitare a Genova giusto? non mi fate pagare la tassa di soggiorno e l'albergo come un cliente che sta in vacanza io sto per lavoro quello mi potranno dire pure un rappresentante di commercio va a Genova per lavoro e infatti pure loro dovrebbero essere aggivolati non lo vogliamo solo per noi io dico invece di dare i soldi io prima ti pago tasse e cose e poi vengo da te e lì c'è le forche caudine no? ti dicono che fai quest'anno? che fai quest'altro anno? che fai fra tre anni? lo sai che devi fare cento repliche? che hai fatto l'altro anno? che hai fatto due anni fa? non lo so adesso vediamo la tua domanda la analizziamo e ti facciamo sapere poi ti dicono sai siccome il primo anno che presenti la domanda ti posso dare i 5.000 euro mi sbatto io che ci faccio i 5.000 euro? ma che ci faccio? non ci pago manco la benzina del bilico del camion che mi deve trasportare le scene capisci? quindi ecco perché siamo facciamo teatro sulla rete canale montesano venitemi a vedere faccio le interviste con Red Ronny capito? anche perché poi io ho cominciato a recitare nel 1966 fatte il conto no? me li porto bene posso ancora ho bella memoria ho fatto rugantino dopo 40 anni saltando ballando però insomma ho fatto ci sono i miei figli ci sono i giovani facessero loro io scrivo leggo studio parlo penso non mi annoio per niente ho un sacco di cose da fare guarda stavo a pensare pure due o tre storie perché devo scrivere devo scrivere ho una storia da due anni nel cervello sono pigro la devo mettere a posto poi c'è una sceneggiatura da rimettere a posto che la devo portare a una persona forse manco la legge la butta non mi frega niente perché sai però è bello creare perché poi se tu scrivi una commedia la lasci forse adesso non interessa ma poi che ne so fra cinque anni dieci anni tuo figlio io ah vedi sta con me puoi essere eresia questo qui eresia questo è del professor Citro ma capito ha voglia studiare qua qua proprio io ritorno indietro devo capire bene perché guarda le pieghette guarda parla di economia della Cina poi vabbè poi con lui comincia te parla proprio la vitamina C o acida scorbito è fra i più potenti antinfettivi antivirali anche nei confronti del coronavirus della precedente SARS nota 62 e Mila A vitamin C and SARS coronavirus antimicrobic quindi ci sono i riferimenti ai libri che lui ha letto quindi le note l'interleuchina ma poi diventa diventa incasinatissimo quando comincia di la vitamina K2 deve essere almeno 100 MCG K2 per ogni 10.000 unità la vitamina è un trattato per come guarire ammazza ma è in testo universitario la SARS il palcoscenico il laboratorio quando lo invitano in televisione lo massacrano però lui è un principe è rimasto quel suo aplomb quanto sarebbe necessario oggi avere in passato investito di più e non di meno nella nostra sanità nelle sue professioni però noi sappiamo che il grande reset prevede l'eliminazione della sanità pubblica cos'è il grande reset di cui stanno cominciando a parlare prima ne parlavamo solo chi era complottista oggi invece ne parlano già in tv ma guarda lo sappiamo da qualche anno del nuovo ordine mondiale Klaus Schwab agenda 21 21 21 come è non confondo perché poi il cervello devi ricordarti tutte queste cose ci sono si parla di questo del trans umanesimo che cos'è che l'uomo diventerà un supporto dell'intelligenza artificiale capisci ci sono tante tanti ci sono dei libri che stanno lassù che io ho letto ce n'è uno di un grande ricercatore Marco Pizzuti che è bravo ha scritto queste cose per esempio questo famoso piano Calergi Pan Europa e poi parte tutto da là e poi parti di questo ci sarà dovrà essere una moneta unica mondiale possibilmente virtuale un'unica nazione tutti dovranno avere un microchip e tutti dovranno essere come i cani quando io scherzando dico ci vogliono cinesizzare e che così loro già fai una vita a punti come la patente Red sei stato un cattivello io te levo due punti ma tu lo sai che c'è già stato io poi ho smesso di guardarli che non si chiamasse Dark quella serie no non Dark si chiamava non mi ricordo dove c'è un episodio dove in Cina tu hai i like e uno ti toglie i like e tu non vai più all'aeroporto non ti faccio prendere l'aereo a dove volevi andare a Shanghai non c'è po' che andare rimani nella tua regione e come mai è perché hai risposto male a un poliziotto ti sei preso tre multe non ti sei messo la mascherina quando sei entrato là ti abbiamo visto con la telecamera perché quello ti controllano con la telecamera ti vedono ci sono telecamere dappertutto cioè del nuovo ordine mondiale si parla già da tempo ma ne hanno già parlato loro apertamente perché loro avvertono prima quello che faranno ma noi siamo troppo distratti mi dice ma no che il figurato è vero e invece è vero succede 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 tutto poi guarda ho cercato anche di fare una lettura ma questa è anche molto impegnativa il capitalismo della sorveglianza io ho letto qualche cosa di Shoshanna Zuboff è un libro dove ti dice appunto che la sorveglianza è il capitalismo della sorveglianza attraverso Google Facebook ma anche attraverso il telefonino noi adesso abbiamo i telefonini qui sopra anche se sono spenti e lei fa guarda io poi mi sono fermato le nostre vite hanno un valore aperto a caso unico ma veniamo trattati come se fossimo invisibili ci sfuggono di mano le ricompense dell'ultimo capitalismo finanziario ci troviamo al cospetto del futuro con uno stupore che sempre più spesso sfocia nella violenza lei cita Zygmunt Bauman quello della società liquida no e fa la storia anche di come si sono trasformate il capitalismo della sorveglianza ha messo radici così in fretta che con le eccezioni di alcuni coraggiosi studiosi di diritto e attivisti del mondo della tecnologia è riuscito a non farsi comprendere e a non chiedere il consenso a nessuno senti una cosa si è impossessato delle meraviglie del mondo digitale il capitalismo della sorveglianza è un bellissimo libro questo lei qualcuno l'ha paragonato quasi al capitale di Marx come vabbè poi vedi Michel Foucault nascita della biopolitica è questo e tu hai il dovere di stare bene allora sono io stato che ti dico cosa devi fare come devi stare la biopolitica cioè poi in realtà non sta facendo bene perché nel loro progetto è quello di eliminare la popolazione mondiale è uscita fuori sta cosa anzi Barbara Palombelli è stata più severa di quello che io ho letto e sapevo sapevo che l'Italia doveva ridurre la sua popolazione ma arrivare a 45 47 milioni lei ha detto 33 da 65 da 62 che eravamo che siamo ma e come fanno in pochi anni perché era per il 2025 io ho detto una battuta ci sarebbe un modo più bello trombate per divertimento e basta quindi senza fare figli ma ci metto troppi anni troppi anni mi hanno risposto ha detto anche il dottor Iedon mi pare Mike Iedon 100 anni allora per diminuire c'è una guerra sì ma è molto meglio allora basta una puntura qualche malattia certo ma non è colpa nostra viene succede c'è un virus che no no è un pipistrello ma sì il pangolino insomma succede che uno si sente poco bene e vabbè pazienza e vabbè ma chi lo decide loro si vogliono sostituire a Dio boh non lo so è vero io io preferisco Dio insomma sono abituato così da sempre cioè io fino a ieri vivevo senza autorizzazione mi piacerebbe continuare a vivere senza autorizzazione sappiamo che queste restrizioni non hanno nulla a che vedere con la salute dell'individuo altrimenti ci avrebbero detto e io questa cosa l'ho detta quando sono stato da Barbara D'Urso era il 2020 e poi a Natale del 2020 con Del Debbio gli dice scusate ma se c'è una cura precoce perché mi devo fare il vaccino silenzio assoluto neanche mi hanno risposto poi c'era presente anche Beatrice la vaccinare mi disse ma che lei in che dottori crede io dico Tarro Montagnè Montanari Gatti Citro ah 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 lei quelli sono dei charlatani infatti Montagnè e Tarro sono dei vecchi ricoglioniti però io dissi scusate ma io se mi devo far curare mi faccio curare dal medico nel quale ripongo fiducia quindi queste restrizioni io penso da persona poi ognuno ha la sua idea io la rispetto io infatti sono per la massima libertà io sono pro vax no cavia quindi free liberi ognuno ci sono altri sistemi per esempio se ci volevano molto bene volevano bene la nostra integrità fisica la nostra salute avrebbero detto non vi intossicate mangiate sano mangiate meno fate qualche digiuno bevete l'acqua buona cercate di respirare l'aria pulita e lì sono problemi perché l'aria pulita non è pulita la inquinano non noi loro con le fabbriche che non sono a norma l'acqua beh se tu fai i rifiuti tossici nel terreno si fa l'acquifere c'è l'arsenico però vabbè ammesso e non concesso non usiamo il glifosato glifosato no glifosato 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 a me la virgola che mi frega capito mannaggia quando facevo felice allegria e quelli sono prodotti cancerogeni non li usiamo nell'agricoltura per esempio facciamo un'agricoltura naturale e poi uno avrebbe dovuto dire alla gente ecco non vi intossicate e poi prendete degli integratori prendete delle vitamine che vi proteggano aumentate le difese del vostro organismo non state ammucchiati ammassati non vi embriagate non magnate zozzerie state a debita a distanza lavatevi le mani e cercate di aumentare le difese del vostro organismo prevenzione non è prevista nel protocollo poi se me dovesse malauratamente prende sto coso io chiamo i miei dottori subito entro le 48 ore mi curo a casa non intaso gli ospedali anche perché cominciano a diventare un po' pericoloso almeno ce vado è meglio sto fammi un monologo chiediamo con no questa questa che era divertente la volevo leggere senti me l'ha mandata una signora si chiama Monica per correttezza non dico il cognome su mess piove sei meteorologo tu? no ma se vede da occhio nudo l'hai trovato su google? ma scusa basta guardare la pioggia che scende sta accadendo c'è uno studio approvato che sostiene la tua teoria? ma quale teoria? ho i vestiti insuppati ma che sta ok ma non significa per forza che piove? non significa per forza che piova? su quale fonti ti basi? ma quali fonti? io ho un amico che lavora al servizio meteorologico dell'aeroniatica e ha detto che oggi non avrebbe piovuto e se sarà sbagliato sì certo vuoi sapere più tu sulla pioggia che lui che ha studiato dieci anni gli eventi atmosferici? parli così perché sei un no meteo ma che dici? ma che senti? ma vuoi dire il cielo grigio e l'acqua che sta scendendo? sta a cascare l'acqua ora? sì vabbè complottista carina eh? è così eh? chiudiamo compendia compendia ciao Enrico grazie a tutti